prego piero poi bene intanto un grazie di cuore a gianfranco al professor gianfranco viesti che ha accettato immediatamente la mia richiesta di tenere una lezione sull'autonomia differenziata e il mezzogiorno il tema di questo in questa sera e gianfranco viesti poche parole di presentazione ma necessario e economista docente di economia politica all'università di bari che esperto di commercio internazionale di economia e di sviluppo locale ha avuto ed ha ancora molteplici incarichi di carattere pubblico è stato consigliere della banca d'italia consigliere d'amministrazione della cassa depositi e prestiti è stato assessore al mezzogiorno al diritto allo studio alla regione puglia è stato e forse ancora questo non lo so presidente della fiera del levante di bari è presente è nel comitato nel comitato direttivo della rivista il mulino e nel e nel comitato nel comitato di italiani della fondazione italiani e italiani europei ha una produzione scientifica vastissima l'imbarazzo a scegliere tra tutti i suoi numerosissimi e saggi articoli e libri mi limito mi limito a qualche titolo come come giusto naturalmente soprattutto in relazione al tema di questa sera ricordo qui più lavoro più talenti giovani donne sud le risposte alla crisi donzelli 2010 poi mi piace ricordare una ricerca alla quale hanno collaborato anche tanti altri studiosi e università in declino un'indagine sugli sugli atenei da nord a sud anche questo donzelli 2016 dove vi dimostra gli squilibri gravi tra i finanziamenti di cui godono le università del centro nord e quelle del centro del centro sud l'ultimo libro uscito l'anno scorso che mi piace ricordare è pubblicato da dalla terza centri periferia europa italia mezzogiorno dal ventesimo al ventunesimo secolo via vi ho mandato un saggio in pdf che tratta che tratta di questi temi chi vuole può può approfondirli allora io ricordo due tre caratteristiche diciamo della personalità scientifica di gianfranco viesti vi è un economista che vede l'economia dentro la società credo che può sembrare un'espressione banale ma credo che sia la la sua caratteristica più originale cioè vede i fenomeni economici sempre intrecciati alle classi sociali ai diciamo ai rapporti politici e così via e questa è una diciamo è una metodologia che lui ha applicato a varie tematiche a vari ambiti territoriali naturalmente soprattutto al mezzogiorno dando un contributo di primordine e sempre aggiornata nel tempo l'analisi della realtà meridionale naturalmente ha accompagnato questa questa sua attività scientifica alla all'impegno civile come è evidente diciamo combinando insieme con grande equilibrio il rigore il rigore scientifico e l'impegno è stato il primo in assoluto non solo il primo economista ma il primo in assoluto diciamo a mettere ad avanzare diciamo l'allarme a lanciare all'allarme su quello che stava accadendo con la proposta dell'autonomia differenziata e l'accordo tra alcune regioni del nord e l'esecutivo e l'esecutivo italiano e questa sera ci tratterà ci ci informerà su questo tema da da par suo io una cosa vorrei ricordarla alla fine diciamo di questa di questa rapidissima e insufficiente presentazione e cioè il fatto che Gianfranco vieste anche un mio caro amico con lui abbiamo condiviso un'esperienza per me molto arricchente cioè la la comune il comune lavoro dentro la rivista meridiana la rivista del dell'anima del 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 lì dell'imess dell'istituto meridionale di storia e scienza sociale che io ho avuto l'avventura di dirige per quasi vent'anni e e da allora diciamo anche se non ci vediamo così di frequente le nostre diciamo la le nostre due vite sono in continuo contatto e diciamo con convergente interesse su tantissimi temi quindi torno a ringraziarlo e gli do la parola grazie buon pomeriggio a tutti grazie molte a voi per l'invito a piedo in particolare consentitemi di salutarlo con grandissimo affetto ricordando diciamo tutte le esperienze che abbiamo fatto insieme e vedo anche molti amici conoscenti che sono collegati mi fa molto piacere non li saluto tutti consentitemi di salutare il mio ex collega di università Ernesto Longobardi che vedo collegato ex perché abbiamo festeggiato da poco la sua quiescenza ma diciamo rimane sempre un collega di università grazie a te che tra l'altro è espertissimo e mi ha insegnato molto su queste materie allora pietro mi ha dato un compito difficilissimo cioè l'autonomia differenziata e il destino del mezzogiorno io lo prenderei un po' alla lontana nel senso che vorrei inquadrare la discussione su questo progetto di autonomia differenziata in un quadro un po' più ampio e quindi comincerei a parlare delle autonomie delle autonomie all'interno del paese quindi dell'organizzazione del potere dell'organizzazione dei poteri e delle modalità di fornitura dei servizi pubblici in questa in questa organizzazione dei poteri fra centri nazionali e periferie regioni comuni e le scelte che storicamente sono state fatte sono molto diverse in Europa abbiamo un quadro molto diverso abbiamo paesi fortemente decentrati la Germania la Spagna l'Austria paesi molto più accentrati il Regno Unito e la Francia ciascuno ha scelto storicamente la strada che ha preferito ci sono stati dei grandi cambiamenti non ricordiamo ad esempio come la rinascita democratica della Germania la Repubblica Federale dopo la seconda guerra mondiale sia stata caratterizzata da un grandissimo decentramento di poteri non a caso la Repubblica Federale che ha rotto il dominio prima a Guglielmino e poi nazista la centralizzazione del potere ricordiamo il caso spagnolo in cui la sanguilaria dittatura franchista aveva compresso le autonomie le diversità e quindi il ritorno alla democrazia dagli anni settanta e poi è coinciso con un fortissimo decentramento è meglio essere più accentrati o è meglio essere più decentrati ma le risposte appunto sono diverse nel nei diversi contesti geografici nei diversi momenti storici diciamo che ci sono vantaggi e svantaggi in ogni scelta che viene presa avere un centro forte significa avere delle politiche pubbliche in grado maggiormente di redistribuire fra tutti i cittadini dello stesso paese avere delle politiche pubbliche in grado di controllare di più l'economia di giocare un ruolo fondamentale di stabilizzazione dell'economia tenere conto di quelle che si chiamano con una brutta parola le esternalità cioè del fatto che quello che si fa in un territorio influenza anche quello che si fa in altri territori e di avere la possibilità di gestire in maniera più efficiente alcuni servizi perché lavorando su una scala più grande si può fare meglio con meno però c'è molto molti vantaggi anche nel decentramento si avvicinano le politiche ai cittadini le politiche possono essere diversificate a seconda dei diversi contesti a seconda delle diverse preferenze dei cittadini e si può anche come dire copiare gli uni dagli altri e quindi introdurre in ciascun territorio le esperienze degli altri certamente eh personalmente non ho nessuna nostalgia per i podestà non ho nessuna nostalgia per uno stato centralizzato che è gerarchico ma ritengo che eh si debba eh sperimentare e cercare sempre la maniera migliore la maniera che riteniamo migliore per organizzare queste politiche anche dal punto di vista del rapporti fra come è organizzato lo Stato e come varia la convergenza regionale cioè quanto i territori che sono più indietro riescono a recuperare un po' rispetto a quelli che sono più avanti mi pare che le ricerche non sono molto conclusive cioè eh né l'uno né una scelta totalmente centralizzata né una scelta totalmente decentrata eh sono di per sé eh delle condizioni sufficienti per garantire questa possibilità di recupero. Com'è la situazione dell'Italia? Beh l'Italia ha fatto un grande percorso anche in attuazione della Costituzione di decentramento ricordiamo tutti che sono state istituite le regioni poi ha fatto un'accelerazione negli anni novanta con molte disposizioni di decentramento e infine ha fatto la sua riforma costituzionale del titolo quinto nel duemilauno e con ampliando ulteriormente i poteri delle regioni quindi si colloca un po' a mezza un po' più vicina per quanto è possibile misurare alla Spagna e alla Germania ma non così decentrata come Spagna e Germania rispetto alla Francia e al Regno Unito. È rimasta però con alcune caratteristiche particolari che centrano con la nostra storia cioè è rimasta con quattro regioni a statuto speciale due province autonome che sono eh state istituite eh nell'immediato secondo dopoguerra principalmente per motivi politici ciascuna aveva le sue motivazioni dal separatismo siciliano alla condizione della minoranza slovena al caso più rilevante di tutti dell'Alto Adige. Queste eh modalità particolari di organizzazione dello Stato che non sono così frequenti negli altri paesi sono interessanti anche per la nostra storia dell'autonomia differenziata perché eh negli anni scorsi alcuni comuni del Veneto in particolare il comune di Sappada ha chiesto e ottenuto di emigrare in Friuli Venezia Giulia perché il Friuli Venezia Giulia consentiva delle condizioni economiche migliori ai comuni rispetto a quello che poteva consentire il Veneto. Quindi diciamo questa organizzazione molto particolare dell'Italia è rimasta una è rimasta una caratteristica anche perché i rappresentanti politici di quelle regioni soprattutto di quelle del nord sono stati bravissimi gli altri artesini sono dei maestri di politica nel senso che appoggiano sempre nella maniera più opportuna il governo di turno e riescono a sostenere le loro eh il loro il loro territorio e questa organizzazione che ci siamo dati nel ventunesimo secolo quindi con in particolare con la riforma costituzionale del duemila e uno non è perfetta per usare un eufemismo nel senso che ha dato vita a eh una guerriglia continua tra il governo centrale le regioni e la guerriglia si fa con i ricorsi alla corte costituzionale sia le regioni che il governo sono continuamente a battagliare sulle diverse competenze nelle materie soprattutto in quelle materie come dire a potestà che la costituzione all'articolo cento diciassette indica come a potestà condivisa e insieme al questo decentramento di poteri piuttosto cospicuo che è stato fatto in Italia verso le regioni abbiamo provato a mettere in piedi anche un meccanismo finanziario diverso cioè a avviare quello che normalmente definiamo il federalismo fiscale cioè a far sì che eh le regioni e gli enti locali eh si finanziassero un po' di più attraverso una propria proprie entrate dirette un po' di meno attraverso trasferimenti dello Stato questo anche perché si è ritenuto che eh questo meccanismo fosse un meccanismo in grado di responsabilizzare un po' di più le classi dirigenti comunali e regionali nell'uso delle risorse pubbliche. Questo processo è largamente incompiuto e come accennerò fra un attimo eh è stato attuato soprattutto negli anni dieci a mio avviso in maniera un po' distorta. Eh l'elemento che ha molto caratterizzato eh l'Italia del ventunesimo secolo è stato quello che io chiamo il forme di sovranismo regionale nel senso che alcune delle regioni sono andate ben oltre i poteri del decentramento e hanno acquisito una rilevanza eh nelle politiche pubbliche nel dibattito politico italiano estremamente ampia. Hanno acquisito una rilevanza sul piano nazionale perché molti presidenti delle di regioni giocando anche sul fatto che sono eletti direttamente sono divenuti come ben sappiamo degli attori politici di primo piano ma hanno anche ottenuto a mio avviso eh esercitato a mio avviso un senso negativo un grande potere verticale verso il basso cioè i comuni sono stati messi molto nell'angolo. Il ventennio passato è un ventennio di presidenti di regioni pensate che si fanno alcuni si fanno chiamare pomposamente governatori con un termine che personalmente detesto. I presidenti di regioni hanno avuto grandi poteri i sindaci hanno avuto pochi poteri e questo come dire ci dovrebbe cominciare a far pensare su vizi e virtù del decentramento perché in realtà sono i comuni il presidio più vicino ai cittadini e noi siamo Piero da grandissimo storico ci insegna siamo un paese di grandi tradizioni comunali più che di tradizioni regionali e questo si è verificato ma le regioni come dire hanno debordato anche perché il centro e questa è una mia personale interpretazione è stato molto debole cioè in tante materie la nostra politica di questo ventennio è stata poco capace di prendere decisioni come dire ha lasciato molto terreno al protagonismo delle regioni e farò subito l'esempio della sanità e ha come dire fatto poco politica sia agli esecutivi che il parlamento ha lasciato soprattutto negli anni dieci gli anni dell'austerità che molte decisioni impervie fossero prese in sede tecnica parliamo dei meccanismi di finanziamento dell'università parliamo di meccanismi di finanziamento della sanità come dire si è un è stato poco capace di fare politica in questo i i presidenti di regioni hanno guadagnato molto spazio il caso della sanità è quello che ci è balzato agli occhi perché la nella sanità la sanità non è una competenza esclusiva delle regioni il governo centrale ha la responsabilità di disegnare le grandi caratteristiche del sistema sanitario nazionale che è un grande risultato del nostro paese a mio avviso una grandissima conquista dal 1978 quando è stato introdotto in poi che cosa è successo che questo sistema sanitario è stato molto poco guidato orientato dal centro e quindi quando c'è stato il covid abbiamo scoperto che la Lombardia e il Veneto avevano fatto delle scelte opposte che la Lombardia aveva puntato tutto sull'ospedalizzazione sull'ospedalizzazione di alta qualità mentre il Veneto un po' come l'Emilia aveva puntato sui servizi territoriali e quindi ci siamo accorti che i diritti dei cittadini di queste due regioni erano molto diversi che in Lombardia purtroppo ci sono stati più morti di covid per scelte sul servizio sanitario che sono state prese dalle regioni e non a caso il PNRR da questo punto di vista segna un'inversione molto profonda nel senso che proprio quando non ci paradosso Piero proprio il governo dei tecnici il governo apparentemente non politico si è preso tutti i poteri col PNRR e per esempio nel PNRR ha disegnato il sistema sanitario cioè ha dato alle regioni risorse ma a patto che facessero quello che diceva il governo qui non entro nel merito le case della salute gli ospedali di comunità ma queste scelte non sono state più affidate alle regioni ma è stato il governo centrale che ha stabilito il tipo di organizzazione dei servizi che si è determinato. Dunque infine gli anni dieci sono stati in particolare caratterizzati come sappiamo dall'austerità. L'austerità è stata molto scaricata su regioni ed enti locali cioè i tagli e la spesa pubblica sono stati molto scaricati sulla sanità e quindi sulle regioni e soprattutto sui servizi comunali. Quindi come dire è nato un risentimento da parte delle regioni e dei comuni, le regioni con una voce più forte e i comuni con una voce più flebile nei confronti delle politiche nazionali. Dove mi porta questo discorso? Mi porta a dire che dovremmo discutere molto di questi aspetti per fare una grande manutenzione del paese e quindi nessuna ritorno dei podestà ma nessun decentramento come dire estremo. L'idea leghista che più si decentra meglio è un'idea a mio avviso molto sbagliata, puramente propagandistica. Personalmente sono molto favorevole a un significativo decentramento dei poteri verso le regioni e i comuni ma come dire la mia stella polare sono le condizioni dei cittadini. Qual è? Cioè i poteri delle regioni a mio avviso non sono dal mio personale punto di vista, non certo da quello del presidente Zaia, non sono il fine ma devono essere un mezzo per migliorare la condizione dei cittadini. Questo è particolarmente vero nel caso del mezzogiorno. Qui non la faccio come dire molto lunga ma è evidente che un buon governo, un decentramento ben organizzato a vantaggio dei cittadini richiede non solo di organizzare bene le competenze ma anche di organizzare un sistema di finanziamento equo ed equilibrato e degli obiettivi, degli standard, degli obiettivi di servizio, degli standard di servizio che devono essere raggiunti in tutto il paese, cioè l'organizzazione dello Stato a mio avviso deve essere finalizzata a raggiungere migliori condizioni per i cittadini. Questo non è in Italia e questo si sente in modo particolare nel mezzogiorno. Perché si sente in modo particolare nel mezzogiorno? Perché le regioni del sud come le altre, le regioni a statuto ordinario del sud, i cui poteri sono cresciuti e si sono avvicinati a quelli di Sicilia e Sardegna, come dire, hanno avuto grandi poteri in questi vent'anni, ma hanno sofferto molto del raccordo, come dire, c'è stato anche lì un eccesso di sovranismo, hanno sofferto di una difficoltà di raccordo con le politiche nazionali, si è un po' persa la visione nazionale del mezzogiorno, soprattutto per le grandi politiche pubbliche, che è stata troppo segmentata fra regioni e hanno avuto anche grandi difficoltà nel lavoro orizzontale, cioè nel lavoro di collaborazione. La questione dell'acqua non è una questione che ha dei confini regionali, è una grande questione territoriale, richiede forme di governo, diciamo, collaborativi orizzontali che vadano ben al di là dei confini delle regioni. Non ci riscondiamo che le regioni del sud sono amministrativamente più deboli, questo anche per la loro storia politica, perché il personale ancora oggi è spesso riveniente da periodi nelle quali le assunzioni venivano per cooptazione politica. Quando c'è stato vendola nella regione Puglia ha fatto il primo concorso pubblico per dirigenti della regione che fosse mai stato fatto dall'inizio degli anni 70, parliamo del 2007-2008, è stato fatto quel concorso. Forse qualcuno di voi ha sentito nominare questo grandissimo politico purtroppo morto, molto giovane, che avevamo in Puglia, che si chiamava Guglielmo Minervini, che è stato, come dire, l'anima di questo percorso insieme a Nicchi Verdo. E dunque la capacità di esercitare questi poteri così estesi da parte delle regioni del sud è stata, come dire, più modesta per una serie di motivi, ma anche perché, come dire, la politica nazionale nei confronti della politica delle regioni del sud ha sempre, come dire, puntato su uno scambio di consensi. Per parlare più chiaro, fuori di metafora, è quello che ha fatto la sinistra, a mio avviso. Cioè la sinistra non ha puntato su una nascita di classi dirigenti a base locale nelle regioni del Mezzogiorno, ma si è affidata molto spesso a dei portatori di voti. È il caso della Campania e della Puglia, nelle quali ci sono due presidenti di regioni molto particolari che fanno le loro politiche e del tutto indipendenti, che sono molto trasversali rispetto allo schieramento politico, che hanno molto più una forma di partito personale che di componente di uno schieramento politico nazionale. Questo è un problema anche per le politiche, perché quando vai per conto tuo, quando c'è un'eccessiva personalizzazione delle politiche, poi è difficile raccordare bene quello che viene fatto fra centro e periferia. Sicuramente a metà degli anni dieci abbiamo perso un'occasione storica quando c'era sia il governo nazionale, sia tutti e otto i governi regionali delle regioni del mezzogiorno dello stesso colore politico, sia usato questo più per un andare avanti in maniera consueta, raccattare, uso questo termine un po' antipatico, a raccattare consensi in tutti i modi con un grande trasversalismo, piuttosto che a disegnare insieme un raccordo fra governo centrale e governi regionali per lo sviluppo e per il miglioramento dei servizi. Questo c'entra perché la performance amministrativa non può mai, Piero diceva bisogna guardare le condizioni, certo la performance amministrativa non può mai essere disgiunta dal quadro politico in cui essa si colloca. Quindi il problema dell'esercizio delle competenze così ampie nel mezzogiorno va letto anche all'interno di questo quadro. Naturalmente non è affatto vero che qualsiasi politica si faccia al sud è sempre fatta male, sempre fatta peggio, ci sono ottimi esempi in diverse regioni del sud. C'è il nodo delle risorse, il nodo delle risorse è un nodo molto complesso perché dopo la riforma costituzionale del 2001, solo nel 2009 siamo arrivati alla legge 42 sul federalismo fiscale, che è una legge molto complicata tecnicamente ma come dire chiara nei suoi indirizzi e cioè bisogna sostituire la spesa storica, cioè quello che è stato sempre trasferito a regioni e comuni con delle quantità di finanziamenti calcolate diversamente attraverso questi meccanismi di calcolo di quanto uno è in grado di ottenere dalle tasse dei propri cittadini le capacità fiscali, quanti sono i fabbisogni di servizi all'interno della diversa regione e quindi con meccanismi che naturalmente non lasciano minori servizi nelle regioni con un gettito delle tasse più basso. Tutto questo inquadrato in questo acronimo magico che è il LEP e cioè i livelli essenziali delle prestazioni che sono una cosa tanto complicata tecnicamente quanto fondamentale politicamente perché significa i diritti uguali fra tutti che devono essere garantiti in Italia indipendentemente da dove si vive indipendentemente dalle azioni dei governi locali. La costruzione del federalismo fiscale tra l'altro prevedeva anche una cosiddetta scusate se uso tutti questi termini ma sono i termini del dibattito una perequazione infrastrutturale e già perché la capacità di erogare servizi dipende anche dalle dotazioni che hai. L'efficacia del tuo sistema sanitario dipende da quanti ospedali hai, da quali macchinari sono negli ospedali, il tuo trasporto pubblico locale dipende da quanti binari hai nella tua regione. Qui sappiamo che ci sono differenze molto grandi e la legge prevedeva un meccanismo di perequazione infrastrutturale che non è stato mai attivato. Se ne è parlato un pochino negli ultimi tempi col CODE2 ma parliamo di cifre molto molto piccole che rispetto alle cifre del PNRR per esempio sfigurano del tutto. Quindi il Sud ha particolarmente sofferto questa attuazione molto parziale e per certi versi distorta del federalismo fiscale. In che senso distorta? Nel senso che quei famosi fabbisogni che citavo prima troppo spesso sono stati letti come l'esistenza o meno del servizio. C'è questo famoso libro molto carino di questo giornalista molto documentato del mattino che si è Marco Esposito che si chiama Zero al Sud nel quale un libro che non è stato mai smentito in nessun dettaglio nel quale lui ricorda che il principio a un certo punto degli anni dieci è stato non hai gli asili nido? Beh vuol dire che non ne hai bisogno cioè il fabbisogno veniva reso uguale al servizio disponibile. E quindi siamo in mezzo a un mare magnum tra l'altro reso molto più difficile dal fatto che tutte queste riorganizzazioni dei livelli di finanziamento andavano fatte senza gravare sulla finanza pubblica e che quindi per aprire gli asili nido a Reggio Calabria bisognava toccare gli asili nido di Reggio Emilia quindi voi capite era molto difficile più i tagli che sono stati fatti dal governi negli anni dieci con l'austerità hanno reso tutto questo molto di là da venire e quindi le regioni per esempio sono restate con la sanità che è finanziata con i vecchi sistemi cioè non è finanziata in base ai fabbisogni ma è finanziata in base a dei criteri di riparto del fondo sanitario nazionale che sono stati stabiliti all'inizio di questo secolo e che sono rimasti tali. Molto più interessante è la vicenda dei comuni perché nei comuni è andato più avanti il discorso del federalismo fiscale con molte distorsioni vi dicevo quella degli asili con molti ritardi c'è questo fondo per equativo fra i comuni che adesso dovrebbe andare a regime nel 2030 quindi a 30 anni dalla riforma della costituzione cosa voglio dire con tutto questo voglio dire che da un'applicazione delle norme che già ci sono e cioè del testo costituzionale così com'è e della legge sul federalismo fiscale così com'è come dire potremmo avere un paese più equo il sud avrebbe da guadagnare ha da guadagnare nel passaggio dalla spesa storica a questi a molto spesso molte parti del sud molto spesso hanno da guadagnare dove diciamo il meccanismo va molto rinforzato e nelle negli nei risultati perché quello che conta poi per i cittadini è la disponibilità di servizi di qualità di quantità e di qualità sufficiente qui diciamo il quadro è ben noto vi potrei tenere un'ora a farvi vedere numeri che direbbero tutti la stessa cosa e cioè che il livello effettivo dei servizi di cui si gode nel mezzogiorno è inferiore a quello del resto del paese spesso ci sono differenze anche all'interno del sud nel senso che le condizioni della campagna della calabria della sicilia tendono ad essere significativamente peggiori di quelle delle altre regioni e come dire questo richiederebbe il miglioramento di questi servizi richiederebbe un buon governo non un buon governo nel tenere conto che una parte della colpa è l'insufficienza di risorse una parte della colpa è la cattiva organizzazione dei servizi che viene fatta al sud e quindi una politica con la P maiuscola in grado di distinguere e di bilanciare questi effetti per dare degli diritti di cittadinanza più simili sembra come dire tutto teorico invece non è vero perché quando si vogliono fare le cose si fanno una cosa piccola piccola ma molto significativa è il lavoro che si sta facendo sugli asili nido nel senso che il Parlamento ha destinato siccome si stanno costruendo si devono costruire molti nuovi asili nido col PNRR il Parlamento ha aumentato gli stanziamenti correnti per gli asili nido e cioè per il personale che deve andare ad aprire far funzionare questi asili nido altrimenti abbiamo fatto solo delle palazzine e i meccanismi con cui utilizzare queste risorse aggiuntive capisci Piedra è molto importante perché sono aggiuntive quindi non bisogna togliere da nessuno questi meccanismi sono estremamente interessanti questi tecnici della commissione tecnica dei fabbisogni standard hanno a mio avviso disegnato dei criteri in base molto positivi in base ai quali ripartire queste risorse ma soprattutto controllare che poi vengano spese effettivamente per migliorare a vantaggio dei bambini e a vantaggio delle donne l'accesso agli asili nido quindi avremo tanto da fare avremo tanto da migliorare il nostro paese con tanta politica e cioè mettendo al centro i diritti dei cittadini e tanto buon governo applicato in tutte queste e invece ma non ci arrivavi mai no ci sono arrivato Piero e invece discutiamo di altro la discussione tutto su altro e cioè sull'autonomia regionale differenziata che cos'è lo sappiamo un comma il terzo dell'articolo 116 dice che le regioni a statuto ordinario possono chiedere di avere delle competenze ulteriori rispetto a quelle di cui già dispongono questo è un principio costituzionale dunque va rispettato questa differenziazione delle competenze è un terreno un po' scivoloso in eh Germania non c'è eh in Spagna ci sono stati dei meccanismi diversi del tempo soprattutto in Spagna ci sono eh due delle comunità autonome cioè i paesi baschi e la Navarra che per motivi prevalentemente politici no nei paesi baschi c'è stata Oleta hanno avuto delle condizioni particolari e questo presenza di differenziazioni e è una delle cause profonde di quello che è successo in Catalogna perché la richiesta catalana era sostanzialmente eh di differenziare anche la Catalogna in quanto regione ricca proprio perché c'era l'esempio dei paesi baschi e della Navarra. In Italia questo questa norma costituzionale è rimasta dormiente ci sono state alcune richieste la Toscana nel duemila e sette aveva chiesto i beni culturali cioè delle richieste mirate collegate a una materia specifica e a una caratteristica specifica della regione ma il governo Berlusconi pensate nel duemila e otto duemila e undici aveva detto non se ne fa niente non vogliamo regioni differenziate ma il tutto è scoppiato il caso è scoppiato e ci porterà i giorni nostri nel duemila e quattordici in Veneto. Perché è scoppiato in Veneto? Beh perché i Veneti hanno un'antica tradizione autonomista ma anche perché eh c'è stata l'austerità ha molti parallelismi con quello che è avvenuto in Catalogna e in entrambe queste regioni ricche eh l'austerità ha comportato dei tagli significativi nei servizi e dunque una parte della politica locale ha cominciato a chiedersi ma perché noi che siamo così ricchi dobbiamo subire questi tagli se ci tenessimo un po' di più le risorse del gettito fiscale che generiamo avremmo dei servizi migliori e dunque la richiesta Veneta e questa che poi come sapete si sono affiancate altre regioni non va presa sotto gamba non è un'alzata di testa è come dire una reazione a mio avviso sbagliata a delle condizioni generali che si sono create. Naturalmente la richiesta che cosa è successo? Che nel duemila e quattordici il Consiglio regionale del Veneto ha detto facciamo sei referendum. Eh uno che è quello che poi si è effettivamente tenuto aveva una domanda molto anodina e cioè volete voi maggiore autonomia? Piero non so come avresti votato tu se ci fosse stato sottoposto un referendum regionale volete voi maggiore autonomia io forse avrei votato sì non lo so non ti saprei bene. Gli altri cinque referendum non si sono potuti fare ma erano come dire molto significativi perché un paio erano volete voi che ci teniamo i nostri soldi nel senso che tecnicamente dicevano l'ottanta per cento dei tributi volete voi diventare una regione a statuto speciale e soprattutto uno non ce lo dimentichiamo mai la legge sedici legge regionale Veneta sedici del duemila e quattordici undice un referendum con la domanda volete voi che il Veneto diventi una nazione indipendente? Un attacco frontale interviene la Corte Costituzionale dice non si possono fare questi referendum potete fare quello sull'autonomia e e dunque comincia questo percorso eh Veneto, Zaia, Lombardia, Maroni, la Lombardia si mette a ruota del Veneto e il Consiglio regionale della Lombardia e del Veneto indicono questo referendum. La domanda del Lombardo era un po' più articolata ma sempre molto generale e perché? Per una grossa, una intelligente, grossa iniziativa di carattere politico e cioè chiamare i cittadini a condividere queste richieste e dunque il ventidue ottobre del duemila e diciassette si vota. Zaia ha un grande indiscutibile successo nel senso che il cinquantasette per cento degli elettori veneti va a votare e votano quasi tutti sì, Maroni molto meno perché in Lombardia va a votare circa un terzo degli elettori, molto meno ed è molto interessante anche per le nostre analisi vedere che nelle città questi referendum hanno avuto molto meno successo che nei piccoli centri, cioè hanno intercettato molto di più i cittadini dei piccoli centri, la tradizionale base leghista ma andando molto oltre il consenso della Lega che no i ceti urbani. Si vota grande festa, vogliamo l'autonomia e dunque Maroni e Zaia si preparano per presentarsi a Palazzo Chigi a chiedere l'autonomia. Ma qui c'è un grande colpo di scena perché la regione Emilia Romagna senza fare nessun referendum ma attraverso una deliberazione del Consiglio regionale chiede anch'essa l'autonomia differenziata. Quale autonomia è la chiave di tutto? Ve lo dico fra un attimo. E dunque i due diventano tre, solo che il terzo è molto importante perché ovviamente è di un diverso schieramento politico perché la regione Emilia Romagna è di centro-sinistra e dunque Zaia, Maroni e Bonaccini si alleano in questa richiesta verso il governo centrale e vanno da chi? Vanno dal governo Gentiloni che sta lasciando perché poi il 3 marzo del 2018 si vota e loro vanno nel febbraio del 2018 da Gentiloni. Con un'alzata di testa di quelle tipiche della nostra politica, il 28 di febbraio del 2018, cioè tre giorni prima delle elezioni, il governo Gentiloni in carica conclude una preintesa con queste tre regioni. Una preintesa per la quale è stata lasciata a mano libera Gian Claudio Bressa che è un politico del Partito Democratico allora, grande sostenitore, si dice che sia stato lui l'ispiratore insieme a Donofrio, questo me l'ha detto Donofrio, del terzo comma del 116 ma vuoi sia come sia questa intesa viene firmata ed è un'intesa che per adesso non ha prodotto nessun effetto ma molto significativa perché accetta lo ius domicili. Cos'è Piero lo ius domicili? È un termine meraviglioso che mi ha suggerito Giovanni Moro, cioè un nuovo istituto giuridico in base al quale tu hai più diritti se abiti in un posto piuttosto che in un altro. Perché? Perché nella bozza di Gentiloni, Bressa, Bonaccini, Maroni e Zaia è scritto che bisogna tenere conto del gettito fiscale delle diverse regioni per stabilire il livello di servizi di cui esse devono poter disporre e quindi l'ammontare dei finanziamenti di cui devono poter disporre. Quindi un documento piccolo piccolo, una preintesa tra il governo e le tre regioni ma dal significato politico molto profondo anche perché trasversale politicamente. Governo di centro-sinistra con una regione di centro-sinistra e due della Lega. Arrivano le elezioni, arriva il 2018, si forma il Conte 1, nel contratto di governo 5 Stelle-Lega, molto lungo, c'è una sola tema in cui c'è l'aggettivo prioritario. Che è questo? Cioè l'autonomia differenziata richiesta da Veneto, Lombardia ed Emilia è l'unico punto prioritario di quel programma di governo. E dunque, tra l'altro, esattamente come ha fatto Meloni adesso, la materia è affidata a un ministro della Lega, la ministra Stefani, che parte in quarta. Parte in quarta per poter concedere questa autonomia differenziata a queste regioni. E ci siamo andati molto molto vicini. Nella fine del 2018, subito, è entrato in Consiglio dei Ministri, poi è entrato in Consiglio dei Ministri ancora nel febbraio del 2018, siamo andati molto vicini a una cosa, come dirò, irreversibile, cioè alla concessione di queste forme di autonomia che non possono più tornare indietro. Non è chiaro quello che è successo, certamente non è stata l'opposizione del PD, come dire, impedire questo PD, come sapete perfettamente, totalmente diviso su questo tema, ma è stata un'azione, come dire, ritardante da parte un po' delle burocrazie ministeriali e un po' dei 5 Stelle. Alcuni ministri dei 5 Stelle hanno cominciato a rendersi conto di che cosa c'era in questa autonomia differenziata e hanno cominciato a mettere della sabbia nelle ruote. Cade il governo Conte 1, nasce il Conte 2, la materia viene affidata a Boccia, si perde un po', Boccia pensa a una legge quadro, ma come dire, poi arriva il Covid e tutto si ferma, si ferma col Conte 2, si ferma con Draghi, la materia era alla ministra Gelmini che non ha prodotto niente di significativo e naturalmente arriviamo ai giorni nostri, i giorni nostri nel quale la Presidente del Consiglio ci ha detto che, per quanto in poche battute, nel suo discorso di insegnamento in Parlamento ci ha detto che questo è un obiettivo del governo e ha, come dire, messo, affidato la responsabilità a Roberto Calderoli, cioè un leghista. molto interessante perché la stessa Presidente Meloni nel 2014 aveva presentato un disegno di legge per l'abolizione delle regioni e il ritorno di tutte le competenze allo Stato e a delle sorte di province che voleva disegnare. Quindi, come dire, vedremo una trasformazione del pensiero politico della Presidente Meloni, direi quasi a 180 gradi, se appoggerà con convinzione questa materia. Fatto sta che i leghisti, soprattutto vista l'esperienza dell'altra volta, sono partiti in quarta. Calderoli ha preparato una bozza di disegno di legge quadro che serve sostanzialmente ad aprire la porta, vado a concludere, fra non molto, vi prego di credermi, proprio sul processo democratico di presa di decisione. La bozza Calderoli che oggi è stata consegnata alla conferenza Stato-Regioni è una bozza che serve a dire alle regioni, potete fare tutto quello che volete. Ma perché l'autonomia regionale differenziata è un problema? Secondo me non lo è in sé, nel senso che io non stravedo per queste differenziazioni di poteri, però sono scritti nella Costituzione e quindi, come dire, se la Toscana volesse i beni culturali o la Puglia volesse i trulli o la Lombardia volesse i grandi laghi di Alpini, non vedrei nessun problema. Ma questa richiesta della Lombardia, del Veneto e della Emilia, pochino differente, ma non moltissimo differente, è una richiesta molto interessante perché loro vogliono tutto. Il Veneto e la Lombardia vogliono tutte, tutte le competenze che teoricamente possono essere trasferite alle regioni. E siccome il legislatore costituzionale ha fornito alle regioni un elenco molto ampio all'articolo 117 di competenze tra le quali scegliere, Zaia e Maroni, adesso Fontana, hanno detto bene, noi le vogliamo tutte. La cosa molto interessante è che non dicono perché, cioè non c'è uno straccio di documento che dica perché dovrebbe essere meglio che quella tale materia viene esercitata dalla regione Veneto piuttosto che dal Ministero. È presunto che, essendo esercitata da loro, viene esercitata meglio. Naturalmente l'esperienza lombarda del Covid, come dire, ha molto raffreddato il potere comunicativo di questa affermazione che ci siamo sentiti negli ultimi trent'anni dai leghisti, che le regioni fanno sempre e comunque meglio dello Stato. Ma non c'è scritto mai perché e soprattutto, cosa molto importante, non c'è mai scritto perché per i cittadini sia meglio. Perché per qualcuno è certamente meglio, e cioè per essi i classi dirigenti regionali, perché essi sì ne avrebbero un enorme vantaggio, perché godrebbero di poteri molto più estesi rispetto a quelli di cui, di poteri e di soldi molto più estesi rispetto a quelli di cui dispongono. Quindi, come dire, a mio avviso, questo è un giudizio personale. C'è un grande inganno. Noi continuiamo a dire che l'autonomia differenziata è un problema per il mezzogiorno. Lo è. Secondo me è un problema anche per i Veneti e i Lombardi. E dovremmo dire con maggiore convinzione questo, perché questo pregiudizio per cui tutto quello che viene portato da Roma a Milano è fatto meglio, a vantaggio dei cittadini, a mio avviso non è affatto dimostrato. E dunque è bene che, io ho partecipato nel 2019, prima del Covid, a diversi incontri un po' carbonari, c'era molto la CGL sia in Lombardia che in Veneto, è bene che lì, come dire, venga fuori una riflessione su questa materia che sia diversa rispetto all'idea del nord contro il sud. Ma perché, come dire, quella regione deve avere quella competenza? Perché il Veneto deve avere quella competenza? Anche questo non è scritto da nessuna parte. E dunque qui si apre un terreno molto scivoloso, perché se qualsiasi regione può chiedere tutte le competenze dell'articolo 117, tutte le regioni possono chiedere tutte le competenze. Ma se tutte le regioni chiedono tutte le competenze, stiamo cambiando la Costituzione senza cambiare la Costituzione, che è una cosa molto grave, perché naturalmente la Costituzione, per la sua revisione, ha, come sappiamo, delle procedure di garanzia molto, molto chiare. Dunque, questo mi sembra un punto molto importante, cioè chi chiede a vantaggio di chi che cosa. Ora, quel che chiedono le regioni, come dire, è la regione Emilia-Romagna, sapete, loro sono molto bravi, i dirigenti regionali hanno provato, come dire, a rimettere un po' in ordine per grandi temi queste competenze. Però la verità è che è una richiesta politica e quindi dentro questa richiesta c'è un po' di tutto. Naturalmente ci sono, le 23 materie sono assai disparate, la regione Veneto vuole legiferare in materia di tutela dell'ambiente, di tutela e valorizzazione dei beni culturali, di governo del territorio, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione, su collocamento e servizi dell'impiego, sui rapporti internazionali e con l'Unione Europea, chiede la manovrabilità dei propri tibuti derivati regionali e locali, il trasferimento delle funzioni amministrative e delle sovrintendenze, vuole acquisire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, vuole il trasferimento al demanio regionale delle strade e la loro programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione, vuole nominare il presidente dell'autorità portuale, vuole il potere di autorizzare gli impianti di produzione di energia elettrica, gli elettrodotti, i gasdotti e gli alerodotti, maggiori poteri sugli impianti di incenerimento, chiede quote del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di quello per la concessione di finanziamenti agevolati, del fondo di garanzia ESMEA, la regionalizzazione della cassa integrazione guadagni, la gestione del fondo del finanziamento per il trasporto pubblico locale, il trasferimento delle funzioni in sostegno all'imprenditorialità giovanile, nonché cose specifiche come i limiti allo scarico degli impianti che recapitano nella laguna di Venezia. Oltre alle nomine dei giudici di pace, le funzioni in materia di tutela, di qualità e di pressione, delle frodi dei prodotti agroalimentari. vi ho letto la proposta di legge nazionale fatta dal Consiglio regionale del Veneto a fine del 2017. Non ho inventato neanche una virgola, neanche una gettica. È evidente che questo coacervo di competenze pone una molticipilicità di problemi. Abbiamo visto, per esempio, pone dei grandi problemi in materia energetica e ambientale. Noi abbiamo bisogno, almeno questa è la mia idea, di forti politiche europee in campo energetico e vogliamo lasciare alla regione la potestà di decidere che cosa va sul suo territorio. Noi abbiamo la COP27, abbiamo politiche globali, Piero ci insegna, sull'ambiente e vogliamo lasciare invece diversificare a scala regionale che cosa autorizzare e che cosa no. Ma perché le grandi infrastrutture devono diventare di proprietà dei cittadini di una regione quando sono state pagate con le tasse di tutti gli italiani? E sono un bene nazionale. Attenti perché dietro il Veneto, la Lombardia e l'Emilia ci sono già il Piemonte, la Liguria e la Toscana. La Liguria che non ha molto da guadagnare essendo una regione in forte impoverimento dalla parte fiscale, chiede il porto di Genova. Chiede sostanzialmente la potestà sul porto di Genova. Quindi un ritorno a mio avviso molto ducale, cioè un sovranismo con diritti di passaggio, Piero non si può dire perché a quel punto, come dire, l'infrastruttura porta di Genova ed è la regione Liguria, non è più un'infrastruttura nazionale. Anche i beni culturali sono molto importanti. La scomparsa del Servizio Sanitario Nazionale, perché la sanità diventerebbe di esclusiva potestà delle regioni, è ovviamente la scuola sulla quale le richieste di Veneto e Lombardia sono più estese di quelle dell'Emilia, nel senso che il Veneto e la Lombardia sostanzialmente chiedono gli insegnanti, quello che vogliono sono gli insegnanti, il potere di selezionare gli insegnanti e il fatto che gli insegnanti diventino dipendenti dell'assessorato regionale. È un enorme potere, come dire, di intermediazione politica. Chissà come andrebbe la mobilità degli insegnanti fra i diversi territori, non possiamo dire se il vincitore di un concorso in Veneto poi potrebbe andare a insegnare in Emilia o viceversa, questo non si può dire. Naturalmente c'è l'aspetto dei programmi che è molto importante. Tutto questo comprende anche, come dire, una miriade di questioni amministrative su cui insistono molto gli emiliani. Io non vi so dire, diciamo, i temi elementari in cui dividere queste 23 materie sono circa 300, cioè ci sono 300 questioni, dalla scuola alla laguna di Venezia, dalle grandi alle piccole. Non escludo affatto che in alcune materie sia opportuno trasferire le competenze amministrative alle regioni. Quello che mi chiedo è, se è così opportuno, perché farlo solo per quelle regioni e non per tutte le regioni? Se fa funzionare meglio il paese, perché lo dobbiamo fare solo per loro? Quindi il mio primo punto, perché non mi piace questa autonomia differenziata, è perché sostanzialmente dà vita a degli stati nello Stato, rompe l'unità delle politiche pubbliche, a cominciare dalla rottura della scuola, e disegna un'Italia o tutta spacchettata o molto arlecchina, nelle quali poi il Ministero dell'Ambiente avrebbe competenze in Basilicata e in Abruzzo, ma non in Lombardia. Naturalmente alle competenze sono attaccati i soldi. Questo Zaia è più abile. Maroni l'ha detto direttamente, ha detto noi vogliamo 27 miliardi, vogliamo indietro 27 miliardi, che sono il nostro famoso residuo fiscale, e cioè Maroni sosteneva quest'idea, priva di fondamento a mio avviso, che c'è qualcuno che prende i soldi della Lombardia e li manda in Calabria. E questo è il residuo fiscale, cioè tecnicamente la differenza tra il gettito delle tasse prodotte in Lombardia e la spesa pubblica che ricade nei confini della Lombardia. Il gettito delle tasse è più alto, quindi c'è questo residuo, ma in realtà questo residuo non dipende da una redistribuzione fra territori, ma dipende da una redistribuzione fra cittadini, che è scritta nella nostra Costituzione. Cioè nella nostra Costituzione c'è scritto che l'articolo 53, che è la tassazione progressiva, e c'è scritto che la scuola pubblica è gratuita e quindi se in una regione ci sono molti contribuenti ad alto reddito, sono loro contribuenti che contribuiscono in maniera più che proporzionale al finanziamento del fatto che i figli dei poveri possano andare a scuola. Quindi questo del residuo fiscale è un altro tema. Voi capite nel 2014-2015 in piena austerità a Zaria che diceva ai Veneti teniamoci i nostri soldi, come dire, aveva un grande effetto. I soldi sono l'obiettivo, sono l'obiettivo del Veneto e della Lombardia. L'Emilia non le ha mai chiesti, anzi, Bonaccini ha sempre detto non ci interessa avere più soldi, però non ha mai detto una parola contro le richieste di Veneto e di Lombardia. Come si debba realizzare questo fatto di lasciare loro più soldi è una materia complicatissima. L'unica cosa che voglio dire è che sarebbero, come dire, un modello speciale rispetto alla legge 42. Cioè è chiaro che non si tratterebbe di applicare quella legge che così faticosamente è stato costruito, ma di fare, come dire, delle deroghe specifiche. E la materia è molto complessa, come dire, tecnicamente si presta a dei giochi comunicativi importanti. La ministra Stefani nella primavera, nell'autunno del 2018, ha pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione una tabella con il finanziamento per l'istruzione pro capite. Cioè ha preso i soldi che il Ministero dell'Istruzione spende in ogni regione e li ha divisi per la popolazione di quella regione. E ha fatto vedere che esiste una grande disparità a danno della Lombardia e del Veneto perché lo Stato spende di più in Campania e in Calabria rispetto a quello che spende in Lombardia e in Veneto e quindi ci ha detto vedete altro che una inequità. Io vado per l'equità ma in realtà questo conto che ha fatto la ministra Stefani è un conto uso questo termine colorito farlocco. Perché è un conto farlocco? Beh perché per vedere quanto spendi in istruzioni innanzitutto devi vedere quanti sono i tuoi studenti e al sud per quanto in forte invecchiamento gli studenti sono di più quindi se voi dividete sul menabò di Etica ed Economia c'è una cosa mia con tutti i conti di questo che vi sto dicendo se voi dividete per gli studenti e non per la popolazione la disequità si assorbe ma rimane questo caso della Calabria che mangia tanti soldi per l'istruzione ma perché la Calabria mangia tanti soldi per l'istruzione? Perché c'ha tanti piccoli comuni di colline e di montagna nei quali pensate i giovani calabresi pretendono il diritto ad andare alla scuola elementare e quindi ha una dimensione media delle classi molto più piccola che in Puglia per esempio dove i comuni sono grandi e quindi costa di più il servizio di istruzione ma questo secondo voi è una diseguità o è un'equità? Secondo me è un'equità perché spendere di più in Calabria perché ci sono pochi bambini nei comuni dove i comuni sono piccoli a mio avviso è una cosa giusta ma si va oltre perché che cosa è successo? come dire che il sud diventa cornuto e mazzato perché negli ultimi anni le assunzioni di nuovi docenti al sud sono state pochissime quindi i docenti del sud sono molto più anziani dei docenti del nord e essendo più anziani guadagnano di più perché viva Dio c'è un contratto collettivo nazionale per cui l'anzianità fa guadagnare di più e quindi il costo di un docente calabrese è più alto di un docente lombardo ma non perché calabrese ma perché è più anziano se poi a tutto questo ci aggiungete il fatto che come dire il diritto all'istruzione non dipende solo dallo Stato ma dipende anche dalle regioni e dai comuni le mense gli scuolabus come dire la frittata si rovescia completamente e si torna al risultato solito che in particolare in Calabria e Campania come dire il servizio istruzione il costo del servizio istruzione per gli studenti è troppo basso e non troppo alto da quest'idea di tutte queste competenze e di questa tensione verso i soldi è nata questa definizione devo dire un po' fortunata nel dibattito pubblico di secessione dei ricchi nel senso che a me sembra un processo parasecessionista intelligentemente non si chiede di diventare indipendenti perché con la sorte che ha avuto la Catalogna come dire non è affatto detto che se esci dall'Italia rimani in Europa e tutto quello poi politicamente è fortissimo facciamolo un po' più sotto banco ma è una secessione per il tipo dei poteri ed è naturalmente giustificato dal fatto che siccome io sono la regione più ricca siccome pago i miei cittadini pagano molte tasse chiedo questi poteri e quindi come dire sono i ricchi che seccedono come concludo concludo dicendo che tutto questo è pericolosissimo perché è pericolosissimo perché la bozza siamo tornati al 2019 idee di Stefani Ministra Stefani idee di Calderoli allora come funziona questo processo funziona che il Ministro fa un accordo col Presidente della Regione questo accordo va in Consiglio dei Ministri dopo di che va alle Camere che a mio avviso credetemi in una materia così enorme avrebbero da lavorare per mesi per capire che cosa fare che cosa non fare come limitare no le Camere danno solo un parere consultivo e quindi torna al Consiglio dei Ministri che firma l'intesa le intese le bozze d'intese le abbiamo viste le abbiamo viste nel 2019 sono state pubblicate sono molto ampie perché sono tante materie ma sono anche molto generali non ci sono i dettagli perché che cosa succede succede che a valle di queste intese si mettono a lavorare delle commissioni paritetiche cioè cinque esperti indipendenti nominati dal leghista Calderoli contrapposti si fa per dire a cinque esperti indipendenti nominati dal leghista Zaia che entrano nel merito nel merito dei tempi dei modi dei dettagli delle competenze e delle risorse e quello che decidono queste commissioni non va nemmeno in Parlamento in Parlamento non viene neanche informato e allora voi direte vabbè però questo lo fa il governo Meloni cadrà il governo Meloni un giorno speriamo che sarà sostituito da un governo migliore che cancellerà questa scelleratezza questo non è possibile è molto interessante è una politica pubblica irreversibile perché dato che è una politica pubblica di natura pattizia per essere modificata richiede il consenso della regione interessante che quindi dovrebbe restituire i poteri allora voi direte va bene allora ci mobiliteremo come i cittadini e chiederemo un referendum ma questo non si può fare perché chiedetelo ai costituzionalisti perché io l'ho imparato fino a un certo punto ma insomma questa essendo una materia attuativa del 116 non può essere sottoposta al referendum e dunque se il consiglio dei ministri come può darsi a prova a breve e soprattutto si chiude il giro con la firma il dato è fatto e non si può fare niente questo è il quadro da cui io derivo la mia conclusione che si tratta di non è come dire la di non stiamo parlando di autonomia l'autonomia ne abbiamo parlato all'inizio stiamo parlando di differenziazione la quale non mi esalta ma è nella Costituzione ma stiamo parlando di queste proposte con tutte le materie e con tutti i soldi e a mio avviso esse proposte rappresentano non solo un problema per il mezzogiorno perché come dire mentre tutta quella cosa di cui vi dicevo all'inizio si deve realizzare si prende tutta un'altra strada pensate il servizio sanitario nazionale ma rappresentano un problema per il paese anche perché essendo irreversibile una volta che avete chiuso la porta alle vostre spalle come dire con calma andate avanti nell'attuazione è un processo lungo questi sono molto intelligenti bisogna fare meno rumore possibile e quindi è un processo è gente che sa aspettare e quindi è un processo lento che nel tempo un passo alla volta un passo irreversibile alla volta si concretizza l'unica cosa che posso aggiungervi insieme a Massimo Villone che è il primo firmatario abbiamo depositato alla Corte in Corte di Cassazione una richiesta una proposta di legge di iniziativa popolare di riforma della Costituzione sulla quale dal giorno 10 di questo mese stiamo raccogliendo le firme con il consenso della Cigelle Scuola della Will Scuola e della Gilda che servono 50.000 firme si può firmare anche online quindi come dire spero proprio che si raggiungeranno naturalmente andrà a questo Parlamento quindi voi direte a che serve serve a fare politica e questa proposta di legge come dire è molto tenera non è molto pesante che cosa fa innanzitutto inserisce l'articolo 117 che è quello che dice chi fa che cosa una clausola di interesse nazionale cioè dice che il governo nazionale può intervenire laddove ovviamente soggetto alla Corte Costituzionale laddove lo richiede una necessità di tutela di unità giuridica ed economica del Paese quindi una clausola di supremazia in secondo luogo proponiamo di riportare alla competenza centrale il minimo sindacale le grandi infrastrutture l'energia la previdenza e l'organizzazione generale della sanità della scuola dell'università e della ricerca come dire più decorativo che sostanziale lessicalmente Massimo propone di cambiare i livelli essenziali delle prestazioni in livelli uniformi delle prestazioni che non cambia una virgola naturalmente ma ha un significato e infine sul 116 ci diventiamo a chiedere che qualsiasi cosa si decida possa essere sottoposta al referendum fra i cittadini italiani perché e qui concludo non è una questione dei Veneti è una questione degli italiani non è una questione della regione Lombardia o della regione Emilia ma è una questione come dire degli assetti di poteri e quindi della declinazione nel ventunesimo secolo della parola autonomia che Piero mi ha chiamato a commentare e cioè se essa debba essere come dire una chiusura identitaria dedicata a questo ius domicili e cioè al riconoscimento di solo di chi vive nella mia regione che poi pensateci è buffo perché non è una cosa etnica cioè se tutti i calabresi si trasferiscono in Veneto diventano residenti in Veneto e quindi c'è stata qualche iniziativa la provincia di Trento ha messo in piedi delle norme per ritardare i trasferimenti di residenza all'interno dell'Italia come dire ma qui siamo al futuribile quindi se l'autonomia è divisione è separazione è egoismo diciamocelo o se l'autonomia invece è responsabilità e capacità di governare le proprie comunità in un quadro ben bilanciato di poteri fra i comuni che sono i grandi perdenti di questo processo non a caso il sindaco di Bologna e il sindaco di Milano sono contrari tra i comuni le regioni e lo Stato nazionale quindi un grande tema un tema molto appassionante che va molto non è una piccola questione amministrativa a mio avviso è una grande questione politica grazie grazie Gianfranco per questa splendida lezione che ci hai dato che ha mostrato come un problema così rilevante sia ignoto alla generalità dei cittadini italiani anche a tanti cittadini che seguono con attenzione le vicende politiche del nostro paese non esiste trattazione discussione neppure accenno diciamo nella nella discussione quotidiana dei media questo questo problema centrale decisivo per il futuro del paese secondo me io darei la parola a chi vuole intervenire ho visto moltissimi commenti positivi nelle chat chiudo chiudo il mio disattivo il mio microfono chiedo a chi vuole intervenire di alzare di alzare la mano o di o di prendere la parola non so se Roberto Morea può dirigere se vuoi non vedo nessuno che ha chiesto professore chiamo chiamo dalla Basilicata vorrei porre un un altro problema il calcolo dei fabbisogni standard dei fabbisogni per ogni cittadino secondo me non dovrebbe essere solo calcolato in base all'intensità abitativa ma anche alle superfici perché la Basilicata avendo pochi abitanti ha una superficie maggiore regioni come Fiori la Liguria quindi abbiamo perso ci vuole dimostrare che la Basilicata ha già anche problemi nelle connessioni allora io raccoglierei altre domande così diamo un po' in modo Roberto mi devo intervenire io un attimo sì mi sono già complimentato per iscritto adesso passo all'orale perché c'è un tema che avevo affrontato trent'anni fa in un testo in cui si parlava di secessione del nord che è quello che non tutte le regioni del nord hanno questo scarto fra quanto danno allo Stato in termini di risorse finanziarie cioè attraverso le imposte e le tasse e quanto ricevono perché noi abbiamo che Trentino Alto Adige Ballo Vra Osta e Liguria ricevono dallo Stato più di quanto danno in termini fiscali come come succede a tutte le regioni meridionali nessuna esclusa quindi queste stanno zitte non dicono nulla ma sarebbero anche loro coinvolte perché come si fa se si arriva a un sistema che ognuno diciamo si paga a casa sua c'è anche lì un altro sottotema quando metti in modo questo meccanismo dell'autonomia fiscale non solo dalla regione poi passi ai comuni il comune ricco dice no io mi voglio io tenere le mie risorse economiche quindi non te le do a te la regione quindi il meccanismo che già è successo negli Stati Uniti per Los Angeles arriva fino a livello di quartieri per ricchi quartieri poveri si paga gli insegnanti meno capaci o la scuola con meno servizi in sostanza c'è questa domanda che volevo fare Giancarlo perché queste regioni stanno zitte la Liguria ci perde in questa cosa tutte le regioni a statuto speciale del nord ci perdono perché non c'è nessuna uno due questi governatori del sud Calabria e Sicilia che sono di forza Italia ma si rendono conto che poi avranno meno risorse economiche stop grazie Laura in cantalupo ti volevo fare una domanda forse un pochino ingenua un po' darsi magari l'avete detto e sono io che non ho sentito questo tipo di richieste e di cioè dovessero avere come dire cittadinanza ma non sono in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione perché andrebbero a creare una disparità tra i cittadini quindi cioè la Corte Costituzionale non potrebbe intervenire in qualche modo grazie grazie a te Ernesto Longobardi poi darei la parola per la replica altrimenti diventa un po' troppo complicato rispondere a tutto Ernesto io devo dire che ho apprezzato moltissimo la la lezione di Gianfranco mi pare che abbia tenuto anche come dire un tono narrativo assolutamente gradevole abbia fatto una ricostruzione completa di una vicenda così complessa come quella che abbiamo vissuto in tema di rapporti finanziari intergovernativi forse forse aggiungerei qualche cosa cioè ho l'impressione che il quadro che ci ha dato su diciamo il rafforzamento del potere regionale forse avrebbe un momento precisato nel senso che lui ha detto c'è stato un protagonismo dei governatori che in assenza di politiche centrali forti ha dato un maggiore spazio alle regioni via dicendo ora vabbè Gianfranco lo sarà meglio di me però diciamo il problema probabilmente è più serio nel senso che con la riforma del titolo quinto del 2001 si è dato nettamente un'impronta regionalista al nostro ordinamento quindi c'è proprio un problema diciamo come dire di ordinamento è una scelta che è stata fatta è stata fatta in maniera molto netta voi sapete che il dibattito sulle regioni va avanti nel nostro paese dall'unità d'Italia nel dopoguerra nella costituente il dibattito è stato fortissimo c'era tutta la sinistra che era contraria all'istituzione delle regioni le istituzioni delle regioni sono state volute sostanzialmente dalla tradizione democratica cristiana popolare era una vecchia idea di un vecchio distorzo del partito popolare che fu ripresa poi dalla democrazia cristiana ma il partito comunista e il partito socialista erano contrari poi dopo vabbè si è fatto l'accordo comunque le regioni come sono state introdotte dalla costituzione del 47 erano delle regioni molto deboli e la legge istitutiva delle regioni negli anni 70 non dava assolutamente poteri finanziari quindi erano delle regioni tra l'altro su questo poi chiudo è interessante come ci fu un'inversione poi lì delle posizioni perché mentre dopo l'approvazione della costituzione la democrazia cristiana voleva lasciarle dormire non le voleva attuare fu il partito comunista italiano che fece il partito socialista che fece una battaglia forza per la pozione delle regioni perché si era reso conto che avrebbe governato a livello regionale una buona parte d'Italia comunque questo è per dire che dal 2001 in poi lo stato lo stato italiano non è più neanche nelle statistiche dell'Ocse considerato uno stato unitario non è considerato uno stato federale ma è considerato uno stato regionale se voi guardate le statistiche dell'Ocse c'è un gruppo che sono stati cosiddetti regionali che sono assimilati agli stati federali e ora con questo bisogna fare i conti cioè questa riforma del 2001 ha fatto questa scelta bisogna fare i conti fino in fondo e il problema è sì il terzo coma dell'articolo 116 ma il problema è l'articolo 117 cioè l'attribuzione delle funzioni con l'articolo 117 come sapete si è fatta un'inversione rispetto all'impostazione che era stata data con la Costituzione del 47 nel senso che si sono fissate le competenze statali si sono fissate le competenze concorrenti e residualmente tutto il resto è stato attribuito alle regioni allora non sapevo di questa iniziativa di legge di Gianfranco e di Villone che ritengo vale assolutamente seguita e sia molto interessante però credo che se sull'articolo 117 si limitano a dire che ci può essere una clausola di salvaguardio mi sembra un po' poco insomma si è tentato di mettere mani a questa cosa ma il referendum che poi tra l'altro avevano tanti altri difetti ma a questo punto ce l'avevano buono quello di rivedere la ripartizione di competenze dell'articolo 117 non ci sarebbe mai fatta ma è il nodo centrale il nodo centrale è quello lì e io penso che sia un forte problema politico perché è difficile tornare indietro adesso da uno Stato che ha assunto una confederazione regionale quindi voglio dire io credo che forse il dibattito un momento andrebbe andrebbe ampliato sul discorso dell'attribuzione di competenze per livelli di governo e che l'articolo 17 sia un problema grosso veramente grosso secondo punto ovviamente Gianfranco non poteva parlare di tutto ma un punto che non ha toccato e che è estremamente importante è quello dell'ente intermedio cioè dico cosa facciamo con le province con le città metropolitane cioè lì si è fatto un disastro totale un disastro totale la legge 42 del 2009 le prevedeva sia le province che le città metropolitane con un potere diciamo di finanziamento rafforzato e con attribuzioni di spesa precise poi c'è stata la riforma Renzi eccetera che ha sfasciato le province senza abolirle per cui sono un interesse assolutamente assolutamente vuoto perennemente in crisi finanziaria sulle città metropolitane non sono decollate cioè io credo che se vogliamo nel dibattito cercare di porci un'agenda politica su questa cosa che è stata chiamata federalismo fiscale che è un'espressione che nasce nella mia materia scientifica nella scienza delle finanze e che è un'espressione assolutamente voglio dire alta importante ma da noi ha acquisito invece l'espressione del federalismo fiscale in una connotazione così spregevole leghista eccetera non chiamiamolo federalismo fiscale chiamiamolo problema delle ripartizioni delle competenze fra i livelli di governo è un problema fondamentale di ogni stato democratico e ce l'ha detto Gianfranco e ce l'ha detto Gianfranco allora io credo che un'azione politica a sinistra oggi debba avere un respiro ampio cioè debba vedere sia appunto il problema regionalismo o meno quale tipo di regionalismo quanto si può tornare indietro dalle scelte che sono state fatte nel 2001 problema del problema dell'ente intermedio e poi il problema dei finanziamenti credo che vabbè accennato l'accennato Gianfranco un risultato veramente straordinario l'unico veramente straordinario del processo che si è aperto con la legge 41 2009 è stata la costruzione di un sistema preequativo basato sulla capacità fiscale di fabbisogno di standard a livello comunale che è assolutamente unico nella sua importanza a livello internazionale a livello mondiale solamente che non lo si applica come ha detto lui si dovrà arrivare e lì ci sono le responsabilità di forze che fanno in qualche modo che fanno in qualche modo anche diciamo parte dell'area a cui facciamo riferimento noi che hanno fatto istruzionismo e continuano a fare istruzionismo a partire dall'ANC che si è sempre messa per traverso per un'applicazione diciamo più più spedita di quel processo che è un processo fondamentale perché la possibilità il nodo politico centrale che ha detto Gianfranco l'autonomia l'autonomia significa riuscire a conciliare i vantaggi dell'autonomia con le esigenze di equità con le esigenze di equità orizzontale e di equità territoriale e per fare questo è fondamentale avere un sistema perequativo che funzioni bene è un punto centrale che deve rimanere nel dibattito politico grazie grazie a te ho altre due persone che chiedono di intervenire però non abbiamo moltissimo tempo quindi mi chiedo soltanto se avete delle brevissime considerazioni altrimenti do subito la parola al professor Viesti Baicchi e Mario Madonì anche Baicchi prego deve aprire il microfono altrimenti non sentiamo ecco scusatemi mi sono perso alcuni minuti della della relazione ma non credo sia stata affrontata i due punti li esaurisco in 30 secondi uno è questa il valore della proposta di legge presentata dal professor Villone da Viesti e altri è più ampio di quello che è il merito in sé perché qualcuno ha dichiarato che non firmava perché non credeva che questa maggioranza avrebbe fatto passare la riforma che viene proposta con la proposta di legge ma questa proposta di legge ha anche un altro valore riesce essendo presentata al senato in base al regolamento del senato riesce almeno in una camera a portare la discussione in aula cosa che altrimenti con i meccanismi messi in atto non ci sarebbe perché come sapete non è prevista la discussione in aula di 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 degli accordi fra governo e giunta regionale quindi è importantissimo firmare questa proposta di legge e superare le 50.000 fine perché obblighiamo il senato a affrontare la seconda cosa la seconda cosa è piuttosto triste mi sono chiesto come mai e lo chiedo a voi come mai su un argomento di questo genere solo le categorie della scuola delle nostre confederazioni sindacali hanno ritenuto di appoggiare la proposta di legge perché la sanità non ha niente da dire su questa cosa e altre categorie non hanno niente da dire è triste pensare che nel sindacato non ci sia una piena presa di coscienza di quello che sta succedendo grazie scusate grazie a te Madonia io volevo intanto dire una cosa cioè sicuramente è l'articolo 117 quello che va assolutamente modificato sarebbe meglio del tutto liquidarlo però il problema è molto più complesso rispetto alla situazione che abbiamo sia in Italia tra l'altro un problema anche europeo perché abbiamo la presenza di paesi che hanno un carattere plurinazionale dove sono piccole nazioni che sono state assorbite dai grandi stati nazionali la presenza di regioni diciamo che abbiano una serie di poteri enormi di fatto annulla gli statuti speciali che abbiamo in Italia cioè la questione della Sicilia la Sardegna il periodo meridionale il Friuli sono questioni nazionali che sono state di fatto che di fatto con l'articolo 117 vengono liquidate al livello di regioni ordinarie il problema più complesso è questo cioè che abbiamo un'unità nazionale un'unità statuale italiana che diciamo non ha risolto la questione nazionale creando una vasta zona al nord che ha un carattere quasi seminazionale una zona meridionale che di fatto non è mai riuscita a diventare una nazione e delle piccole nazioni si fa per dire come Sicilia Sardegna il territorio meridionale che poi sono parte della Germania e friuli che di fatto sono trovate immesse all'interno dell'apparato statale italiano forzatamente e sono in condizione almeno per quanto riguarda la Sicilia Sardegna in condizione di tipo coloniale semile a quella che è la condizione del meridione d'Italia quindi il discorso è estremamente più complesso non può essere secondo me ha fatto benissimo una bellissima relazione di professor Viesti ed è un discorso da cui dobbiamo partire ma non è sufficiente bisogna andare più a fondo e vedere come si è formata lo Stato italiano per risolvere i problemi complessi che riguardano le relazioni fra le varie nazionalità che sono almeno per alcune parti del meridione d'Italia e Sardegna eccetera in condizioni di tipo coloniale e quindi la questione del nord che attraverso diciamo degli statuti regionali acquisisce una serie di enormi poteri è chiaramente in relazione sicuramente a questa condizione e tutto l'apparato statale che va rivisto e tutta questa formazione se non si riflette su questo la questione riguardante l'autonomia differenziata diventa accademia che non risolve i problemi ma per poi credo che li risolva ma non come pensiamo noi sicuramente siamo assolutamente d'accordo è ovvio Mario Grisolia anche tu apri il microfono perché non ti sentiamo ci sono io sono calabrese della provincia di Cosenza io volevo sì è un'ottima iniziativa quella di questa sera ottima l'iniziativa anche della raccolta delle firme però anche perché diciamo che è un dibattito che in realtà poi nei mezzi di comunicazione è quasi inesistente eppure si parla del destino delle persone praticamente io direi di organizzare anche iniziative nelle piazze dei nostri paesi dove raccogliere si firme ma anche informare le persone guardate io vivo nell'Alto Ionio della Carampier qui il sistema sanitario nazionale ve lo posso assicurare non esiste non c'è non abbiamo un ospedale decente noi ci curiamo praticamente nella Basilicata e la regione Calabria chiaramente persa il contributo le spese alla regione Basilicata vedete è un problema c'è anche un problema politico non a caso dell'autonomia differenziata se ne occuperai il ministro Calderoni questo qui io già lo ricordo tanti anni fa che era il ministro della Devolution che aveva fatto quella che a mio avviso è una secessione praticamente del delle regioni del nord camuffata perché siccome la parola secessione è diventata una parolaccia impresentabile per la Lega chiaramente adesso la chiamano autonomia differenziata il problema è che c'è una parte politica chiamiamola di centro-sinistra in questo caso il partito democratico che in qualche modo ha seguito la Lega Nord pensando di recuperare consenso elettorale qui in questa piazza che ho davanti a me in occasione delle elezioni del 5 settembre i candidati del partito democratico tutti quanti hanno detto di essere contro l'autonomia differenziata però adesso sta chiaramente giusta la proposta della raccolta firme di legge perché li metteremo davanti a scelta essere favorevoli o contrari all'autonomia differenziata perché in Parlamento una posizione la dovrà dipendere io mi fermo qui ottima iniziativa la faccio breve ringrazio 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 ancora grazie a te a tutti quelli che ci stanno anche scrivendo i loro commenti vi ricordo soltanto che stiamo registrando la lezione e quindi sarà possibile poi ripeterla e mandare ancora contributi qualora ci sia la vostra volontà adesso do la parola finale per il professor Biesti prego deve aprire il microfono sembra ecco mi sente adesso ho schiacciato il tastino sotto delle cuffie e dunque sulla domanda lucana si si tiene conto del nel disegno bisogno standard dei comuni si tiene conto di tanti elementi quindi anche dell'altitudine per esempio della popolazione la densità equa totale è stata inserita solo nel costo standard dell'università diciamo Ernesto Longobardi ha parlato di parole molto positive sui meccanismi di determinazione di quello su quello che è stato fatto dai comuni e quindi si possono fare per bene le cose piuttosto la basilicata ci pone un altro problema e cioè questo delle royalties del petrolio che adesso rischia di diventare un problema più rilevante cioè hanno le regioni diritto in qualche modo a esigere qualcosa sull'energia che da esse transito in esse viene prodotta è un altro tema molto delicato Tonino Perna ha perfettamente ragione ci sono delle regioni del centro-nord con residui fiscali non positivi dipende un po' da come si calcolano soprattutto per il Lazio però Umbria e Marche sono neutrale e il Trentino e l'Alto Adige ha dei residui positivi quindi come le regioni del sud questo dipende dal fatto che la spesa in Alto Adige pro capite è elevatissima ci sono delle spericazioni terribili in quello che succede la Liguria è interessante perché non ha molto da guadagnare dal punto di vista economico ma ripeto io non metterei troppo l'accento sull'aspetto strettamente economico secondo me l'aspetto prioritario è chi fa che cosa e come si organizzano le politiche quello che dicano i presidenti di centro di destra del sud non saprei io ho incontrato prima del covid il presidente dell'Abruzzo ma non conosceva poi di Fratelli d'Italia quindi era molto cauto sull'argomento in Cantalupo la corte costituzionale non vorrei soprattutto visto che è registrata non vorrei fare errori io poi sono professore di economia applicata non di diritto mi pare di poter dire che la corte costituzionale interviene dopo non può mai intervenire preventivamente e poi dipende da come vengono fatte le cose il ricco intervento di Ernesto Longobardi mi fa piacere che abbia io ero molto incerto se dire tutte quelle cose che ho detto all'inizio di tipo generale sull'autonomia evidentemente concordiamo cioè che questo tema dell'autonomia differenziata va messo in una cornice più ampia che cosa fanno le regioni il 117 va ampliato il dibattito e discutiamo sulla diciamo estrema regionalizzazione perché siamo è vero ha ragione Ernesto naturalmente in tutto che diciamo come ci colloca l'Ox e quanto abbiamo decentrato col titolo quinto però le competenze concorrenti sono anche interpretabili politicamente se il ministero della salute non fa mai linee guida in ambito salute questa Ernesto secondo me è più una questione politica che estrettamente giuridica cioè io non credo credo neanche tu ma non credo che diciamo la revisione dei testi sia la soluzione per questi temi certamente l'aspetto giuridico è molto importante ma c'è un aspetto politico diciamo molto significativo certamente d'accordissimo con lui sulla circostanza che l'ente intermedio sia molto importante infatti alla ricerca di possibili alleati in questa battaglia di resistenza io andrei a cercare subito i sindaci perché i sindaci secondo me non hanno niente da guadagnare da questo tipo di riforma Baicchi ricordava una cosa che mi ha spiegato Massimo Villone cioè che questa legge iniziativa popolare va in discussione al Senato si chiedeva poi perché solo della scuola non saprei però posso testimoniarvi che nel 2019 io ho fatto manifestazioni contro l'autonomia differenziata in Lombardia e in Veneto con il segretario regionale della CGL del Veneto e della Lombardia era facile abbiamo fatto anche a Brindisi ma quella era facile era lì che era più difficile farle e loro c'erano sugli statuti speciali come dire anche qui bisogna riflettere perché bisogna chiedersi fino a che punto siano valide come dire queste autonomie speciali fatte tanti anni fa adesso è entrata anche l'insularità in Costituzione c'è stata una micro riforma della Costituzione come dire le inserirei nella discussione più generale e infine concludendo certamente come dire è opportuno mobilitare i calabresi ma non c'è dubbio informarli innanzitutto però questa battaglia si vince a Parma si vince a Modena si vince a Padova si vince a Brescia cioè si vince vestendola della sua dimensione politica e non trasformandola in una conflitto non sud perché lo è ma lo è soltanto in parte il CGL Emilia Romagna non mi è mai capitato non so dirle ho visto al volo una domanda sulla chat non so dire CGL Veneto e CGL Lombardia mi hanno invitato in Emilia può non essere capitato non glielo so dire si vince a Padova si vince a Brescia cioè si vince vestendola della sua dimensione politica che è la sua dimensione naturale perché appunto questa non è solo una questione il nord si vuol tenere i suoi soldi datecele a noi che siamo poveri è una delle variabili considerate ma secondo me non è neanche la più importante è la questione ma vogliamo una scuola nazionale o vogliamo come dire qual è la nostra identità di paese che tipo di politiche dell'ambiente vogliamo fare nell'ambito delle politiche internazionali è giusto che le grandi infrastrutture che sono state costruite in decenni da tutti gli italiani diventino proprietà delle regioni e soprattutto è giusto avventurarsi in una strada che non è una sperimentazione ma è una decisione definitiva che non viene più cambiata si può anche provare come dire a fare dei processi di sperimentazione io sono molto aperto su questo e questo modello tutto subito dateci le chiavi chiudiamo la porta che le buttiamo e poi ce la vediamo noi che trovo un modello molto pericoloso per contrastare il quale io ripeto ci vuole una coalizione di cittadini non solo e non tanto su base territoriale ma su base valoriale e con questo ho finito grazie ancora professore che do la parola a Piero si molto brevemente grazie per questa lezione che definire magistrale è molto appropriato è l'aggettivo usato in molte chat dai nostri ascoltatori io non voglio entrare più di tanto nel merito ma è finita mi sentite prego prego Piero si sentiamo volevo dire volevo ricordare da storico che il nostro paese è uscito da quattro secoli di subalternità e di irrilevanza a livello europeo grazie all'unificazione nazionale del 1860 61 questo disegno porterà a una frantumazione territoriale del nostro paese a divisione a disordine amministrativo credo che questo sia l'unico caso di una legge che ha avuto in anticipo una dimostrazione empirica del suo carattere fallimentare durante il covid noi abbiamo visto a livello di sanità che cosa fanno le regioni lasciate e al loro arbitrio naturalmente non c'è non c'è tempo per ulteriori commenti ringrazio davvero tanto Gianfranco Viesti anche per l'informazione io la sto già facendo girare della proposta di legge vi esorto a firmarla e vi informo vi rimando vi do l'appuntamento al nostro alla nostra prossima lezione che sarà tenuta da Laura Marchetti giovedì 24 e naturalmente vi fornirò le informazioni per tempo comunque sappiate questo Roberto Morea me lo ha assicurato e approfitto per ringraziarlo del suo del suo lavoro il link resterà lo stesso per cui potete conservarlo e utilizzarlo per le prossime lezioni grazie a tutti e buona serata grazie grazie mille grazie a te a tutti voi buona serata grazie a te